Ciao a tutti cari ascoltatori meteo e bentrovati in questo nuovissimo video. Oggi andremo a fare una tendenza meteo precisa e dettagliata per i prossimi giorni, per la fine di questo mese e l'inizio di agosto. Ma prima di incominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e attivare la campanella per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo. Per voi un piccolo gesto, ma per noi è importantissimo. Inoltre iscrivendovi e attivando la campanella rimarrete sempre aggiornati senza dover andare a cercare informazioni perché le notifiche arriveranno direttamente sul vostro dispositivo. Inoltre è gratis. Vi ringraziamo dell'iscrizione e andiamo a fare subito questa tendenza. Bene, finalmente l'Italia si sta liberando dall'aria calda. Temperature nella media stagionale o qualche grado al di sotto in generale su tutto il centro e nord Italia. Ma nelle prossime ore le temperature diminuiranno anche abbondantemente sulle nostre due isole maggiori, tra cui la Sardegna è già con temperature basse, ma la Sicilia, che ha ancora temperature un po' levate, nelle prossime 15 ore avrà una diminuzione termica molto molto drastica e importante, con temperature massime che anche proprio sulla regione potrebbero non andare oltre i 33 gradi, quindi una diminuzione termica addirittura quasi 13 gradi. Ma cosa accadrà? Bene, dal 27, quindi da domani l'aria fresca rimarrà sul nostro territorio. Le temperature aumenteranno verso il 28 e il 29 leggermente di nuovo sulla Sicilia e in generale sul centro-sud Italia, ma senza avere quei caldi estremi come si sono avuti qualche giorni fa. Attenzione, perché il 30, una nuova eruzione d'aria fredda, arriverà sul nostro paese, portando una nuova diminuzione delle temperature su tutto il centro e, ma soprattutto, sul sud Italia. Poi, tra la fine del mese e l'inizio d'agosto, come possiamo vedere, qui ci troviamo verso l'1 di agosto, una maxi eruzione d'aria fredda e di origine artica si sposterà verso l'Europa, portando una netta e chiara diminuzione termica, in generale su tutta la nostra penisola. Temperature sotto la media stagionale fino anche a 4-8 gradi. Quest'eruzione bisogna ancora capire bene quale sarà la sua direzione, perché potrebbe darsi che si sposterà verso la Francia, quindi colpendoci pienamente, oppure potrebbe anche spostarsi verso i Balcani, quindi colpendoci pienamente, ma non proprio con quell'intensità che ci colpirebbe con un'altra traiettoria. Ma comunque siamo abbastanza certi che anche l'inizio di agosto sarà sotto afflussi d'aria più fredda. Vi ringraziamo della visione e vi invitiamo nuovamente ad iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e attivare la campanella per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo.